Musica Magari avete scoperto questo video Magari lo starei vedendo in un altro momento Non lo so Questo è il primo video Cercherò di fare qualcosa di bello Che possa Tipo 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 ammazzare questo Molto random Sì Io però direi di non lasciare l'arma qua Sempre per precauzione Il topic di oggi Il cui volevo andarvi a trattare Era principalmente appunto Il cambio del canale Non so se molti si saranno chiesti Anche perché Il vero motivo per cui ho cambiato il canale Che comunque Penso si sia capito Anche perché erano Il problema Che io avevo cambiato Da grafica a design E c'era stato questo cambio Dopo ormai Grandi iscritti che mi ero fatto E Quindi molta gente Non mi voleva seguire più Non si era nemmeno disiscritto E quindi si era creata Una grande inattività sul mio canale Che sinceramente Mi lava piuttosto fastidio E è stato questo il motivo principale Per cui ho deciso Di fare questo cambio Sinceramente adesso mi sento Felice Possiamo dire più sollevato Perché si spera Adesso non so come andrà questa cosa Però spero Io sono il più positivo possibile Anche con gli amici Che mi stanno accanto Per questo spero Che questo canale Almeno possa andare meglio Dal fatto dell'attività Quindi Se voi stai guardando questo video Se mi volete dare una mano Per lo stesso rider Che io sono sempre stato Di chiedere tanto un like Per aiutarmi Come supporto Ve ne sarebbe Ve ne sarei veramente Molto grato Adesso Qua stanno facendo una strage Io sono messo piuttosto bene Anche se potrei farmi Una spara in ferro Però direi di fare Il terzo clean up Di fila Ecco appunto Questa c'è pure la spara in ferro Eh no Ok Va bene Mettiamoci i piedini Mettiamoci questo qua E andiamocene Direi che siamo messi bene Anche se abbiamo tre cuori Quindi Cerchiamo un attimo Di prenderci Qua non c'è nessuno Entriamo dentro Ci facciamo la spara in ferro C'è uno Beh però Non mi ha visto Ui Fammi i chiudi fuori Facciamoci la spara Due spara in ferro Addirittura mi posso fare Troppo gentile però Due non ci faccio niente Ugi Allora adesso direi di rigenerare E poi Poi ci dobbiamo sistemare tutto L'inventario Direi di dare una bruciatina Quindi questo era il topic principale Non volevo trattenervi troppo Sullo stesso topic Ossia del cambio di canale Perché alla fine non c'è molto da parlare Ho cambiato il canale Spero Che vada tutto per il meglio Perché come già detto Non so come andrà Però che questo video Lo state gestrando la sera prima Quindi ieri sera In pratica per voi sarebbe ieri sera Non so come andrà Spero Andrà tutto per il meglio E si va avanti comunque ragazzi L'importante è Saper andare avanti Saper affrontare tutte queste cose E sono sicuro Che le affronteremo sempre insieme Perché Spero voi ci sarete Quindi Per adesso Iniziamo Dovremmo essere Quanti siamo? Ok Ne manca uno E Potremo Andare al deathmatch E L'unica cosa A cui stavo pensando Molte Delle cose Che mi lasciarono alle spalle L'unica cosa Che veramente A cui veramente Ci tenevo Erano Gli iscritti Per un fatto che Comunque Per arrivare a 2000 Io l'impegno ce l'avevo messo Per stare tranquilli L'impegno Se ce l'avevo messo prima Ce lo metterò In modo anche costante In questo qua Portandovi comunque Un video al giorno Che non manterrà mai I team Questi vanno pure 2v2 Ma che cazzo è stati? Ma che è stati questo? Sì io sto Stato 2v2 cochi io Matti E Vediamo No 60 team It's Oh no Switch E vai Già partiamo con il team Pure vicino Ma che è stati Staltro? Ma è malato? Ok aspettiamo Cerchiamo di capire Cosa sta succedendo Qua Perché non capisco Non so 2v2 Ma che continua Di 2v2 questo? Poi mi spada Ma è tutti contro tutti Non è un 2v2 Eh sì Ok questo è pure scarsetto Madonna Poco spam Cerchiamo di concentrarci Sul deathmatch Perché preferirei portare Una prima vittoria Ehm Tanto la cesano i confini Questi i primi che trovano Spadano Ok Ehm Lì aspettiamo il cleanup E poi andiamo a Cleanappare noi Perché mi sembra La cosa più giusta da fare Per far vedere Quanto siamo pro in pvp Comunque Per serie che Oh Ullala Le serie principali Adesso saranno Survival Games Per far prima un attimo Sbloccare il canale E poi Ok Sta fa un attimo Un po' di cazzate Ho burpato l'occiarino Via Questo è un mobbo Spama perché C'ha pochi cuori Ok Cerchiamo di fare Dove stai? Preso 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 Vediamo Vediamo Dai Mo' devi Bo spammare Non bo spammare Non bo spammare Vediamo Ok Stami lontano Dai Non bo spammare Bro Stai lontano Agheppolato Lagga pure Giustamente O bo spamma O lagga Ok GG ragazzi Spero che questo video Sia piaciuto Se così fosse Mi invito a lasciare un like Per supportarmi Come già detto Cerchiamo di arrivare A una buona cifra di like Sempre per darmi un supporto Se questo video Ci è piaciuto Appunto Lasciate anche un commento Ci vediamo domani Con un prossimo video Da Rider Black Tutto Bella Ciao 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 Ciao